Ciac! Mino Raiola Dai pomodori al gota del calcio Carmine Raiola è un personaggio veramente diverso Fuori standard Molto diverso dal comune Soprattutto per quanto riguarda l'immagine che lui dà appunto di se stesso in pubblico Non ama i vestiti eleganti Gli eventi mondani, le luci, i riflettori Insomma è un personaggio che si distingue Insomma il comune per un agente di calciatori Insomma il vestito elegante, la gravata è comune E lui sostiene, ha ragione Che se qualcuno deve dimostrare qualcosa con il modo in cui si veste Con le immagini che propone Probabilmente nasconde qualcosa Sotto banco fa qualcosa che non va Dice io mi posso permettere Me lo posso permettere di andare in giro Vestito in questo modo Perché è tutto alla luce del giorno quello che faccio Quindi modi casual show davanti alle telecamere Non si tira indietro quando c'è da sparare a zero sul sistema calcio E ultimamente uno dei suoi pallini appunto è quello di mettere mano al sistema calcio E al governo del calcio mondiale Quindi camicia vaiane, calzoncini, uscite stravaganti Minoraio non è uno spro avvenuto Sa il fatto suo in tema di calcio È dagli anni 90 insomma che sta in corsa Da mio padre dice ho imparato a lavorare H24 Da mia madre l'ossessione per lo studio e la cultura Minoraio l'è cresciuto in Olanda Parla inglese e olandese come madrelingua A cui vanno aggiunte il napoletano, l'italiano, il francese, il portoghese e lo spagnolo Insomma è un poliglotta Che sa adattarsi alle situazioni È olandese, rigido, rigoroso Quando deve esserlo Ma sa essere anche italiano, napoletano E paesano all'occorrenza Sa adattarsi quindi alla situazione e all'interlocutore Questo è un po' quello che si evince dalle interviste Che si trovano in rete Ma è verrebbe da dire che sa scimmiottare Sa prendere in giro E sa proporre un po' il modello italiano Dell'italiano all'estero Dell'italiano che si è fatto da solo Che ha trovato fortuna all'estero Quindi un po' tutti questi modelli Che vivono all'estero Che trovano luogo appunto Poi magari non è l'italiano vero Non è il modello che tutti sanno Però all'estero l'italiano è anche questo Anche e soprattutto questo Sembra che nella genealogia di Raiola Ci sia anche Al Capone Infatti recentemente ha acquistato la sua casa a Miami La casa dell'italiano americano a Miami Inutile è numerare i giocatori che Raiola ha nella sua scuderia Sono top player Tra i quali ci sono Oltre i quali Bravivo Pogba Eccetera Raiola è riferimento per i giocatori olandesi Non solo I scandinavi Gli italiani E gli italiani Lui dice di se stesso Quando giocavo a calcio Era un numero 10 E ero abbastanza arrogante E probabilmente Lui attira questo tipo di giocatori Che in lui si identificano E viceversa Come dice appunto A un'intervista Sono giocatori Che appunto Sono giocatori Che Così Prendere o lasciare Poi In basso In descrizione Ti metto tutte le Tutti i riferimenti Tutti le fonti Da cui ho attento Passando alla biografia Minoraio All'anagrafica Carmine Raiola Nasce ad Angri E non c'era Inferiore Il 4 novembre del 1967 Da una famiglia di Angri Appunto Il padre faceva il meccanico All'età di un anno Un anno dopo la nascita Del Bembo La famiglia decide di cambiare aria E visto che in Olanda C'era uno zio Con un forno Faceva il fornaio Decidono di spostarsi Inizia così L'avventura Della famiglia Raiola In Olanda Che aprono Una Pizzeria All'inizio Una pizzeria Poi diventa Un ristorante Di lusso Dove Appunto Accolgono I I Vari Le persone Insomma Anche i lustri Che di lì passano Infatti vicino C'è la C'è La federazione Olandese Calcio Il sindacato Cose del genere E che attira Appunto Questo tipo di pubblico Dirigenti del calcio Comercianti Diamanti Eccetera Insomma L'Olanda E' anche Un paese Abbastanza importante Dal punto di vista Dell'economia E Questo tipo di Insomma Business Quindi A Darlem Che Si E' una località Che si trova A dieci minuti Da Amsterdam Aprono Quest'attività Che Nel tempo Che è Un po' Il palcoscenico E Il Luogo Dove Ragli Cresce E si sviluppa Lui fa Il cameriere Qui Soprattutto E Per il papà Che Lavora H24 In cucina E in tutte Le altre Mansioni Del Ristorante Ragli Si occupa Appunto Di gestire I rapporti Con il cliente Con i fornitori Con le banche E quant'altro Quindi Insomma Lui Come lui dice Proprio La mia La scuola La mia scuola E' stata Soprattutto Quella Del ristorante Perché appunto Ho iniziato A conoscere La persona Le persone Iniziato A relazionarsi A capire Un po' Come Molte cose Quindi Inizio a collezionare Contatti utili E Quindi Ragliola Mino Ragliola Tanto Studia Si forma Consegue La maturità Classica Frequenta Due anni Di giurisprudenza Intanto Giocava Anche a calcio Lì Nell'Harlem Proprio Attività Insomma Che lui Ama Che Pratica Compassione Ma Che Che Pratica Fino A 18 Anni L'Harlem Ricordiamolo Anche Una società Piccola Ma Anche Importante Perché Tra i Giocatori Che ha sfornato C'è stato C'è anche Gullit Che Appunto Come Ragliola Riferisci Lui è entrato Due anni Dopo L'uscita Di Gullit Quindi Come abbiamo Detto Nel ristorante Di famiglia Venivano Anche I dirigenti Della squadra Dell'Harlem È una frase È una frase Che Ragliola Spesso Ripeterà Nella sua Carriera Tutti i calci Non capisci Niente È una cosa Appunto Una frase Che lui Ha detto Anche Disse Anche I Responsabili Della squadra E quindi Nel 1987 Lui diventa Responsabile Del settore Giocavanile Dell'Harlem Quindi inizia La sua carriera Imprenditoriale Da lì a poco Rivendendo Un McDonald Quindi Da vita Alla prima Società Di Intermediazione Intermezzo Faceva Questo tipo Di Business Da lì a poco Entra nel Consiglio Degli Imprenditori Di Harlem Siamo 20 anni D'età Insomma Molto Precoci 20 anni Diventa Direttore Sportivo Addirittura Della Società Sportiva Dell'Harlem Iniziano Le prime Negoziazioni Di giocatori Entra Nel Sindacato Dei Giocatori Olandesi Eleggendosi Quindi A Rappresentante Dei Giocatori Olandesi All'estero Siamo Nel 92 Il primo Colpo In cui Entra Brian Royal Foggia Di Zeman Foggia Che per Lui Sarà Veramente Un Un luogo Una parentesi Importante Resta un anno Qui Decide di Spostarsi Iniziano a Intrattenere Amicizie Importanti Con Con il calcio Italiano Con il presidente Casillo Che lo aiuta A inserirsi Nell'ambiente Sicuramente Non facile Per un giovane Conosce Tutti Gli agenti Che sono Sul Sul mercato Insomma L'ambiente Degli agenti Italiani Ben Ben Diverso Da Quello Internazionale Ci sono Le Eminenze Grigie Come Canovi Come Caliendo Caliendo Ricordiamolo È Appunto Quello Di Maradona E Poi Non Solo Di Maradona Cioè Entrato Lì Perché Maradona Mi Sembra Aveva Un Certo Non Mi Comunque Resterà Un Nome Tedesco Però Lui Era Argentino L'argentino Però Chiudiamo La Parentesi Quindi Entra Con Insomma Per Farti Capire Un Po L'ambiente No L'ambiente Del Del Calcio Degli agenti Di Calciatori Che Non Era Assolutamente Semplice Come Appunto Lui Dice In Qualche Qualche Intervista E Quindi A Foggia Conosce Anche La Sua Futura Moglie Roberta Barbetta Famiglia Temi Familiari Si sa Veramente Poco E Quindi Conosce La Sua Futura Moglie E Mamma Dei Suoi Due Figli Nel 93 Poi Collabora L'Affare Che Porta Bergkamp E Young All'Inter Siamo Sempre Lui Sta Crescendo Sta Camporando Il Da Interprete Insomma Da lì a Poco Diventa Agente FIFA Da Vita La Società Sportman Con Sede A Monte Carlo Ufficio In Brasile Paesi Bassi E Repubblica Ciega E Questo Veramente Il Primo La Prima Esperienza Reale Di Raiola Acquisisce La Procura Di Pavel Nedved E Nel 1996 Questo Il Primo Vero Colpo A Nome Raiola Il Primo Contratto Affirma Raiola Quello Che Porta Il Nome Di Pavel Nedved Alla Lazio Quindi Lazio Di Gragnotti Il Primo Colpo Di Raiola Che Lo Scaraventa Proprio Nel Nel Calcio Che Conta Zeman Diceva 200 Milioni Per Ragazzo Sono Più Che Sufficienti Da Sottolineare Che Con Gli Allenatori Non È Spesso Non Sono Spesso Rapporti Diliaci Da Ricordare Appunto Le Controverse Con Ferguson Per Quanto Riguarda Pogba Ecc Con Guardiola Nel Rapporto Con Ibrahimovic E Quindi Si occupa Negli anni Quegli anni Poi Dopo Il 96 Si occupa Anche Di Altri Giocatori Olandesi Come Krik E Wink Quindi Questi Sanno I Primi Golpi Importanti E Quindi Poi Arriva La Notorietà L'Acquisizione Di Giocatore Top Nel libro Che vi Consiglio Raiola Per i nemici Mino Dei Giornalisti Chianesi E Pisani Che è Un lavoro Bello Divertente Giornalistico Molto Molto Allegro Insomma Che racconta Il personaggio Raiola In toni Molto Forse Probabilmente Come Il personaggio Colorato Inizia Proprio Con la Scenetta Che Fa Conoscere Ibrahimovic Con L'ognomo Ciccione Come Lo Chiama Lui Appunto Quando Lo Vede A Questo Incontro Che Loro Avevano In Un Ristorante Di Lusso Importante Appunto Raiola Si Presenta Con I Calzoncini Maglietta Vajana In Frateto Insomma In Un Modo Molto Easy Molto Molto Sciolto Appunto Lo Vede In Questo Modo E Ibrahimovic Dice Ma Chi È Ma Chi M'hai Portato Con La Persona Appunto Che Lo Stava Accompagnando Si Era Presentato In Modo Elegante Lui Porsche Assurdo E Ecco Al primo Impatto Raiola Boh Senti Io so Chi sei E Dice Tu invece Penso Che di me Sei poco Non perdiamo Tempo Con Queste Cazzate Proprio Dice Passiamo I Fatti E Questo L'esordio Di Raiola Che Poi Aggiunge I Fatti Dicono Che Tu Sei Uno Stronzo Ti Presenti In Questo Modo Qui Come Un Fighetto Ma I Fatti Dicono Che Dicono Tutt'altro No Non Fai Gol Tu Non Fai Gol Guarda Guarda I Dati Sceva 22 Gol 27 Cari Vieri 24 Gol 27 Cari Inzaghi 20 Gol 25 Cari Tre Zeghe 20 Gol 20 Cari Tu 5 Gol In 20 Cari Che Significa Insomma Questo E Questo E Mino Raiola Che Poco Da Poco Conto Da Poco Importanza Le Apparenze Più Ai Contenuti Quindi Questo È Quanto Se Il Video Ti È Stato Utile Ti È Piaciuto Pettimi Like Condividi Blah 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 Alla Prossima Con Un Video Sempre Di Questo Tipo Dr Tap Un Un Po Un 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 Made Un Grazie a tutti. Grazie a tutti.